Vi dirò, vi dirò ragazzi, non male, non male per il prezzo, per la formula dell'opzione e per la formula dell'operazione e soprattutto perché finalmente ci siamo liberati di vigna e quindi ragazzi anche ad una somma diciamo piuttosto discreta Angelinho ragazzi, futuro giocatore della Roma, accordo raggiunto con il giocatore per il tersino spagnolo classe 97 quindi 27enne, questo mi fa rendere conto di quando mi sto invecchiando che arriverà nel mercato di gennaio come ultimo o penultimo colpo dell'era pinto. Adesso ne parliamo subito, vi spiego chi è e vi dico che cosa ne penso soprattutto di questa operazione della Roma così parliamo un po' più di Roma e capite che squadra tifo veramente, sto scherzando. Lasciate un bel like comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete il video per crescere sempre di più tutti insieme. Ah e poi se volete c'è qualche spiccio abbonatevi che a noi ci fa piacere e ci fa comodo ovviamente per migliorare la qualità dei contenuti e la qualità in generale del canale. Angelinho ragazzi è stato un po' un fulmine a ciel sereno, un giocatore che in passato a me è sempre, partiamo dal primo posto che mi è sempre piaciuto non parliamo di un fenomeno, ovviamente ma parliamo di un giocatore che fino a un paio di anni fa comunque era sulla bocca anche delle grandi europee e d'altronde il giocatore spagnolo ha avuto una carriera di tutto rispetto, ha giocato ovunque, in Olanda, ha giocato in Germania, adesso giocava in Turchia con il Galatasaray rapporto che si è concluso come? Angelinho praticamente era stato messo in tribuna dalla prossima partita perché alla prossima partita a giocare con il Galatasaray sarebbe scattato l'obbligo di riscatto a 6 milioni e il Galatasaray questo impegno non se l'è voluto prendere e quindi l'Ipsi ha dovuto trovargli una sistemazione visto che a quanto pare non trovava spazio nemmeno con gli uomini della Red Bull il Torino era sulle tracce del giocatore ma non solo, si parlava anche di un interessamento del Marsiglia e non mi ricordo, mi sembra del Villareal anche per questo giocatore che ragazzi è ovviamente un tersino di spinta e con il nuovo modulo di Daniele De Rossi, il 4-3-2-1 comunque con la difesa 4 ma anche con la difesa 5, finalmente ci siamo a caparrà di un tersino quanto meno in grado di crossare questo già è tutto dire, nel senso che intanto tersini che fanno le diagonali bene, tersini che difendono bene a Roma non se ne vedono da anni e probabilmente non se ne vedranno per molti anni ma sicuramente con questa tendenza vista contro il Verona dei tersini nell'era De Rossi molto alti che prendono molto campo e che sono fondamentali per questo gioco per dare ampiezza alla manovra e per creare superiorità numerica sulle fasce sicuramente è un acquisto azzeccato e che potrebbe servire molto numericamente serviva ragazzi perché ovviamente passando a 4 Zaleski non può fare il tersino già fa fatica a fare l'esterno tutta fascia e il tersino non lo fa Spinazzola che ad oggi è il migliore diciamo ad offendere rispetto a tutti sicuramente ha bisogno di un sostituto o quantomeno magari di un papabile titolare per quel lato di campo e Angelino ragazzi si sposa perfettamente con quelle che sono le caratteristiche del credo calcistico di De Rossi giocatore offensivo, giocatore che ripeto non è nel momento prime ovviamente perché come diciamo spesso la Roma si può permettere con un budget limitato di prendere veramente poco di meglio in giro per il calcio estero e non però è un acquisto quantomeno sensato e finalmente mi voglio sottolineare che è stato fatto un piccolo lavoro di scouting o comunque è stato trovato un profilo che può rispecchiare le caratteristiche che servono all'allenatore per esprimere il proprio gioco e soprattutto un giocatore che serve realmente numericamente alla Roma ovvero un tersino che sono anni che non ci sta perché questa è la verità è un giocatore validissimo tecnicamente ripeto bravo a spingere e soprattutto ha un gran piede e quando si ha in area gente come Lukaku e sembrerebbe con la nuova era dei rossi sfruttare anche molto l'inserimento dei centrocampisti un uomo che riesce a darti qualità sull'esterno e mettere magari al centro dei cross che siano cross che si chiamino cross perché ragazzi tra Zaleski, Spinazzola, Karsdorp, Celic, Christensen cioè non c'è uno che ha secca un cross cioè sono mesi che la Roma non riesce a fare un cross in area di rigore anche perché quando sbagliano e li fanno i gol di testa dalla Roma arrivano per questo vi voglio dire perché noi sulle vallenattive siamo molto forti e quindi teoricamente con una squadra più offensiva e con la fisicità che ha la Roma anche sulle azioni di gioco normali avere degli esterni che ti garantiscano no? come per esempio l'Inter con Di Marco e Danfris come Cambiaso nella Juve che mi viene molto in mente quest'anno perché sta giocando molto molto bene anche Kostic che ha un gran piede comunque ti permette di essere più pericoloso e soprattutto ti permette di sfruttare ancora di più una caratteristica che hai eh perché non sfruttarla perché non fare un investimento finalmente mi hanno sentito Tiago Pinto sta iniziando a fare il suo lavoro dal momento in cui è in procinto di andarsene via da Roma però Angelino è sicuramente un obiettivo e un giocatore che arriverà alla Roma che mi sento di premiare, di promuovere e di dare anche un buon voto rapporto qualità prezzo perché? Perché comunque lo prendi con prestito, diritto di riscatto a 5 milioni il che vuol dire che adesso è gratis, paghi solo l'ingaggio che era un problema se fosse dove andare al Torino perché il Torino stava valutando altri profili e stava valutando il profilo di Angelino che però sembrava dal punto di vista dell'ingaggio costare troppo per le casse di Cairo quindi tu hai la scelta poi, la facoltà a fine stagione di decidere se tenerlo o meno ma è un diritto di riscatto quindi puoi esercitarlo quando vuoi e come vuoi se resterà De Rossi il profilo sarà interessante è comunque un valore aggiunto a 5 milioni per un giocatore che qualche anno fa era valutato molto molto alto tra i 30 e i 35 milioni quindi ragazzi secondo me è un ottimo profilo non so cosa ne pensate quindi scrivetemelo sotto nei commenti e poi speriamo, e questo io lo spero, che arrivi un esterno si parlava di Icone, che però ragazzi speriamo che no anche perché io al Gallo ci sono affezionato e sarebbe un altro giocatore da andare a prendere perché? Perché comunque Di Bala in quella posizione fa un po' fatica e il Sharawi è l'unica ala vera che abbiamo diciamo ci si può adattare Zaleschi però con il nuovo modulo del mister io credo che un esterno un'ala d'attacco serva veramente tanto e io spero che sia fatto un lavoro di scouting molto più approfondito e che si provi quantomeno per quello che può spendere la Roma a trovare dei profili adatti al gioco di De Rossi perché secondo me in un'era in cui se n'è andato via Mourinho che comunque cercava il campione bello che è fatto comunque il giocatore pronto ed è stato comunque bravo a valorizzare alcuni giovani adesso con la nuova era De Rossi possiamo iniziare a provare a puntare anche su qualche profilo diverso, su qualche nome diverso cercato e trovato da una rete di scouting che deve essere efficace e se non lo troviamo sul mercato dobbiamo cercare di andarcela a prendere dalla nostra primavera, dal nostro settore giovanile è molto importante, è fondamentale far crescere i giovani perché in un periodo storico in cui non possiamo spendere dobbiamo cercare al meglio di sfruttare quello che abbiamo o quello che possiamo prendere Angelino quindi, nuovo giocatore della Roma super promosso questo acquisto l'unico problema sarà dover liberare credo uno slot nella Rosa da 25 quindi sicuramente qualcuno in partenza oltre Migna perché Angelino per essere iscritto alla lista della Serie A credo quasi sicuramente, se non mi sbaglio che debba essere arrivato a un calciatore perché la Roma ha già 25 giocatori nella Rosa iscritti alla lista di Serie A quindi aspettando un colpo in uscita un altro colpo in uscita ci aspettiamo di avere a giorni Angelino qui a Roma per le visite mediche che poi possa iniziare al meglio la nuova avventura in giallorosso e che Dio ce la mandi in buona sperando che non si rompa e che soprattutto ragazzi sappia grossare che soprattutto sappia grossare sempre forza Roma scrivete in un momento che cosa ne pensate dal vostro Andrea un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti